È tempo di restyling per Mercedes classe A che si concede un piccolo lifting ed impreziosisce la propria offerta d'ingresso. Come spesso accade, le maggiori novità estetiche le troviamo sul frontale, dove calandra, gruppi ottici e paraurti si presentano in una veste ritoccata, ma non stravolta. All'interno arrivano spunti provenienti dalle sorelle maggiori, come il nuovo volante a doppia razza o il riconoscimento dell'impronta digitale. La plancia cambia poco con la conferma del sistema multimediale MBUX che si aggiorna con una veste grafica ridisegnata. Il nuovo Model Year 2023 offre una dotazione premium arricchita da optional tecnologici come telecamere di parcheggio o da rivestimenti per i sedili. Classe A dice quindi addio alla lunga lista degli optional che la contraddistingueva, abbracciando soluzioni strutturate in pacchetti, più pratiche e convenienti al momento della configurazione. Per quanto riguarda la gamma motori, sono poche le novità del nuovo Model Year. Confermati i propulsori a benzina, a cui si aggiunge l'omologazione ibrida grazie alla batteria da 48V, elettrificazione che arriva anche sulla sportiva d'ingresso, la A35, mentre Mercedes preserva la purezza della più performante A45, con trazione integrale accoppiata all'iconico Drift Mode e la sua graffiante estetica dedicata. Le maggiori novità arrivano nella plug-in, ibrida alla spina che guadagna qualche kilowatt per arrivare a quota 80V. Maggiore potenza ma anche maggiore autonomia, grazie alla batteria più capiente, per offrire una percorrenza a zero emissioni che supera gli 80 km.